Ciao ragazzi, oggi vi porto in campo con me. Dai, andiamo. L'escaldamentino. Proviamo l'uscita dal bassa nostra, poi facciamo un po' attacco alla porta. Cose brevi ma intense. Dai, andiamo. Dai, Davide, andiamo. Palloni sulla figura, palla veloce, eh. Non palle morbide, palla veloce sulla figura, andiamo. Dai. Andiamo, andiamo, fai gol. Precisione, precisione, via, andiamo. Giochiamo col piede contrario, c'è l'avversario. Se giochiamo col piede interno, poi non riusciamo a prendere la palla, forza. Andiamo in anticipo, non col destro. Una palla forte, eh, una palla forte. Deve arrivare, palla forte. C'è la figura, andiamo. Dai, facciamo gol, eh. Ho messo le porte per fare gol, non per sbagliare, forza. Laura, avanti. Se tu la giochi con sinistro, la palla va dietro. La palla deve essere messa avanti, eh. No dietro, la messa avanti, per fare gol. Anticipa, buona. Dai. Forte sta palla, eh, una palla a bersaglio, forza. Forte la palla, forte, forte. Non deve essere una palla morbida, deve essere una buona palla, anche quando calciamo. Non esistono palla morbida, andiamo. Che c'hai? Toma il ginocchio? Primo allo scarico, poi partiamo. Merle, non girare il corpo, eh. Dai. Guardando, passiamo la palla. Scarichiamo guardando la palla e partiamo. Come on, come on. Adesso andiamo a tutta, ok? Ok? Dai, via. Su, 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 spingi, spingi, spingi forte. È uno sping. Su, 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 su. Dai, via. Com'è? Vieni con un attimo. Vieni con un attimo. Ti da fastidio? Sì, è molto strano. Io credo che ho tutto questo bloccato. Io andrei dentro. Vai dentro. Davide, metti i gunni. Sì, via. Su, su, vieni, 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 vieni. Vieni, vieni, vieni. Se sono strette, noi stiamo larghe, eh. Chiaramente, ok? Se porti palla tu, Laura, a questo punto uscirà il tre quarti loro e troviamo la soluzione sugli esterni e sulle punte. Va bene? Lateralmente. Dove vuoi? Se sono libera, Laura, la giochiamo direttamente. Se si apre direttamente la giochiamo così. Va bene? Se la giochiamo, sappiamo che sarà da questa parte qua o fissi tu il terzino o lo fissi te lì, ok? Vediamo il contro. Il primo movimento che facciamo, l'altra va lunga. Miri, sempre a riferimento. Guarda il movimento che fanno e te sei la giocatrice dentro qua che deve fare la differenza. Chiaro che ci sarà lei che ti verrà a prendere. Andiamo in profondità, eh, Greta. Cristi, scelgiamo da questa parte e vieni dentro, eh. Pronte, Laura? Ci siamo? Dai! Dai! Non possiamo perdere palla, Cristi. Stoppa palla, tranquilla, eh. Cristi, stoppa palla tranquilla. Tranquilla. Non è che dobbiamo per forza andare avanti, eh. Se la palla è messa male, la stoppi. Arriva, giocata dentro. Vieni a prenderla, eh. Vieni a prendere anche l'1-2 da questa parte di qui. Ok? Va bene. L'1-2 o parte in profondità. Gondi, se possiamo andiamo avanti. Non andiamo dietro. Pronte? Dai! Buona, dai! Porta, porta! Dai! Anche arriva. Di giù! Buona! Vieni Sara! Vieni, 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 vieni! Sotto! Sì! Brave, brave, brave. Brave, ottimo. Ottimo, ottimo, brave. Dai, dai, dai recupero, dai! Sì, Linda, non va più. La doppia, la doppia, Cristi, la doppia. È nostra! Laù, quando porta palla, sono due cose. O ti allarghi, o vai lungo, oppure, oppure, ti fai, ti fai prendere. Eh? Se ti fai prendere, troviamo lo spazio per, per Cristi oppure per, per, per Greta. Quindi veniamo anche, ce la portiamo dietro. Se non ti prende, invece gioca la palla e ti giri. E la costruisci. Ok? Qui puoi fare anche, anche da lei. Abbiamo detto, da questa, torniamo da questa parte qua. Ma se Fifi te la dà, da questa parte, c'è Cristi da questa, dentro, tra il centrale e Terzino, eh. Andiamo dentro a far gol. Va bene anche in questa parte qua, ma se riusciamo, sola, boom, da, da, eh, Cristi, mi vai profonditata, centrale e Terzino, tagliata dentro forte. Play. Brava Fifi, brava, brava. Sì. Scarico. Tutta. Brava. Ottimo, ottimo, ottimo. Brava Fifi, brava lì. Brave, buon bini. È il tuo lavoro sporco, ma poi vai a far gol dopo, dopo. Portati fuori questo difensore centrale. Se te lo porti fuori, poi c'è lo spazio per noi, per buttarci dentro, eh. Dai. Brava. Se siamo in metà campo nostra, guardiamo i movimenti. Se siamo sui 70 metri, andiamo a prenderci profondità, allunghiamo la difesa avversaria, eh. È importante. Sì. Ora facciamo qualche uscita, 4-2-3-1, ragazzi. Ok? Abbiamo due giocatrici solo, in metà campo sono due. Ok? Quindi possiamo tranquillamente provare. In avanti lì siamo 5 contro 4. Abbiamo subito a numerica. Quindi, per riuscire a liberare Miriam, per riuscire a liberare Leslie, per riuscire a liberare Greta, i due centrocampisti, ci abbassiamo per far creare lo spazio in mezzo, dove possiamo venire a prendere la palla. Ok? Se invece con i centrocampisti ci abbassiamo e siamo liberi, con i due centrocampisti, la giochiamo direttamente e andiamo in avanti. Va bene? Pronte? Dai, raddoppia, la triplica, la triplica. Vai, 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 non esce. Raddoppia Greta, raddoppia, raddoppia. Non va. Porta, porta giù il spazio, porta. Brava. Brava. Sotto. Buona, fai andare. Bravi, 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 bravi. Buona, buona. Brava Fifi. Guardo, qui dobbiamo pensare che siamo sempre due contro uno, perché il terzino deve fare una scelta se prendere il quinto o prendere l'esterno alto nostro. Lì dobbiamo fare la differenza. Facciamo un dieci contro dieci, un attacco alla porta e abbiamo finito. Ok, ragazze? Ci mettiamo, arancioni, ci mettiamo 4, 3, 1, 2, per favore. Se gli arancioni recuperano la palla, 5, 6 secondi andiamo a riaggredire immediatamente per riconquistare la palla. Riconquistata la palla, ci fermiamo. brava, dentro in aria! Vai, vai, vieni! Brava, brava! Coppi l'aria preventiva fuori, preventiva! Brava! Dai ragazze, abbiamo detto una cosa, arriviamo sul fondo, mettiamola dentro. Tutta, tutta, vieni! Eccola là! Lascia andare! Centro una, centro una! buona, dai! Calcia, calcia! Calciamo, Greta! Siamo dentro l'aria, calciamo! Guarda la palla, guarda la palla! C'è larga! Brava! Brava! Brava lì, brava! Vai, vai, dentro in aria! Brava, dentro in aria! Oh, buona! Brava, brava, brava! Molto bene, molto bene! Ultima! Brava, Greta! Sì, sì, fuori! Brava, fuori! Brava! Tutta! Sì! Sì, dentro, dentro! Ancora una, dai, mi è piaciuta, ancora una, ultima! Brava! Non cade? Brava, brava! Buona! Dai, uno! Dai, gioca! Gioca, gioca, gioca! Due, tre, quattro, cinque, fuori! Brava! Ancora, ancora! Andiamo, ancora, ancora lì! Eccola qua! Vediamo qua! Abbiamo fatto un ottimo lavoro, dobbiamo essere un attimino un po' più precise, delle volte un po' più attente, però abbiamo fatto un ottimo lavoro, non preoccupiamoci, abbiamo attaccato in maniera giusta, abbiamo costruito dal basso con i nostri concetti, perfetto! Alleniamoci con questa intensità, con questa voglia, poi, poi sabato e domenica, poi le giocate arrivano, non dobbiamo preoccuparci, l'importante è avere chiari quali sono i nostri concetti, ok? Va bene? Ora andiamo a fare la doccia, oggi finiamo così, ok? Grazie, 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 andiamo!